Cosa succederà nelle prossime ore, nei prossimi giorni? Dunque, se noi osserviamo questa carta meteorologica che praticamente presenta le isovare che si trovano sul continente europeo, ecco, qui vediamo che l'Europa meridionale si trova ancora in un regime di alte pressioni, mentre il maltempo, dovuto alle basse pressioni, è dislocato tutto a nord delle Alpi. Questa è la zona depressionaria che poi ce la ritroveremo nelle prossime carte che vedremo e nei prossimi giorni qui da noi. Infatti, se vediamo la carta successiva, ecco, vediamo come quella stessa area che prima si trovava qua su, adesso si sposta fino all'Italia, fino al Mediterraneo centrale. Ecco, questa carta si riferisce in particolare alla notte tra sabato e domenica. Ecco, qui c'è una bassa pressione, questa bassa pressione è come fosse praticamente tutto un canale su cui l'aria che viene dal polo nord riesce a giungere velocemente, senza cioè riscaldarsi, fino alle nostre altitudini. È chiaro che poi dopo il contrasto che si genera tra quest'aria fredda e l'aria caldo-umida ancora presente, relativamente caldo-umida ancora presente sul Mediterraneo, darà luogo a dei corpi nuvolosi, perlomeno ad intensificare i corpi nuvolosi che arrivano fino alla noi e a far sì che ci siano delle precipitazioni, ma soprattutto che ci sia un abbassamento notevole della temperatura. Se vogliamo fare una sintesi, dalla giornata, diciamo a cavallo tra le giornate di sabato e domenica, brusco cambiamento di tempo, quindi pioggia e sicuramente abbassamento delle temperature e neve anche in montagna? Eh sì, perché è chiaro che questo abbassamento di temperatura provocherà delle nevicate, adesso parliamo mediamente intorno agli 800 metri, dopo poi dipende, diciamo, se la precipitazione più consistente si verifica nelle ore notturne o di giorno, se nelle ore notturne è chiaro che in montagna di 800 metri possono anche abbassarsi sui 700-600, viceversa di giorno la quota neve, la quota zero si innalza, quindi ci saranno più piogge miste a neve o addirittura solo piogge. Questa è un po' la situazione che avremo nei prossimi giorni. Comunque si vede anche che le temperature saranno più basse della norma, quindi ci sarà un salto molto brusco, cioè passeremo da un livello di 5-6 gradi sopra la norma, parlo mediamente, a 3-4 gradi sotto la norma, parlo sempre mediamente.